È uscito nelle sale C'era una volta il crimine, terzo capitolo di questa trilogia apparente, perché poi magari chi lo sa che ci siano ulteriori capitoli, dedicata al mondo della criminalità con i viaggi nel tempo. Il tutto è iniziato nel 2019 con Non ci resta che il crimine. Massimiliano Bruno ha avuto una bella idea, il film lo vidi, mi piacque. Il tutto è continuato nel 2021 dopo vari rimandi causa Covid con ritorno al crimine approdato per lo stesso motivo, ahimè, la pandemia solo on demand, che forse mi piacque più del primo, dove tra l'altro oltre al ritorno al futuro si andava ad abbracciare Avengers Infinity War, X-Men, giorni di un futuro passato. Le percepivamo le derive di Bruno anche ad un cinema più mainstream ed eravamo curiosi di vedere come si sarebbe conclusa questa trilogia. Ed infatti il terzo capitolo è arrivato, è stato girato proprio nel periodo in cui on demand uscì il ritorno al crimine. Vi ricorderete senz'altro che il film precedente terminava con la promessa di piarsi a Gioconda e quindi dopo che la banda della Magliana si voleva prendere Roma, adesso i protagonisti di questa trilogia si volevano prendere la Gioconda, forse con dei componenti della banda della Magliana, in primis Renatino interpretato da Edoardo Leo. Sono andato a vederlo il primo giorno di programmazione nelle sale, Massimiliano Bruno è un regista che a me è sempre piaciuto, lo sapete, mi piace molto la commedia leggera, mi piace quando in Italia si decida di portare avanti anche delle operazioni commerciali diverse dal solito, parliamoci chiaro, non è una cosa di tutti i giorni vedere un film che abbracci il fantasy, che parli di viaggi nel tempo, che sia così citazionista, quindi mi piace quando sotto c'è un pensiero editoriale, autoriale, ma anche a livello commerciale che si cerchi di fare qualcosa di forte. Ed infatti ho sempre sostenuto quest'operazione, mi è dispiaciuto molto vedere il precedente solamente su un pc in streaming, però non ho perso tempo e sono andato a vedere questo finale in cui ci sarebbero stati anche dei graditi ritorni, in primis il personaggio di Ilenia Pastorelli, Sabrina, che mancava nel predecessore perché si svolgeva in un contesto in cui essendo il presente si mostrava una Sabrina invecchiata interpretata da Loretta Goggi. Che dire, c'era una volta il crimine sempre diretto da Massimiliano Bruno? È un film che non è che mi abbia convinto particolarmente. Sicuramente è di intrattenimento, sicuramente ci sono dei momenti che senz'altro mi hanno fatto divertire e che sono anche coraggiosi, chiamiamole così, ma per il resto mi è mancato il coraggio per quanto riguarda determinati altri aspetti. Se noi vogliamo pensare, ricordando anche la tradizione della commedia all'italiana, nel 2022 di vedere un film dove i protagonisti tornino nel 1942, quando la guerra stava divampando e quindi che si voglia raccontare un qualcosa che oltre all'ironia mostri la tragicità del periodo, senza che si rischi in un film commerciale, come sapeva fare la commedia all'italiana, dimostrare anche la tragedia, beh è come se ci si soffermasse sempre in una comfort zone dove tutto è bene quel che finisce bene, ma che allo spettatore che è cresciuto con la tradizione della commedia all'italiana e che sa, essendo Bruno un bravo regista, che potrebbe andare oltre e spingersi un po' in là, specialmente, ripeto, in un film come questo, ma che si trattenga perché forse è più facile e appetibile per il grande pubblico uscire dalla sala divertito e con il lieto fine a me un po' fa storcere il naso. Mi andava bene nei primi due film, avevo apprezzato la genialità veramente di cambiare la storia con un renatino, il capo della banda della magliana che addirittura andasse a scontrarsi con la camorra, quindi la storia che viene stravolta, l'ecitazione, il ritorno al crimine è molto sottovalutato, ma riscopritelo, la voglia di creare un franchise se vi amo a Giugonda e poi, beh, vedere un renatino che subito venga messo da parte perché torna nel passato, perché magari Edoardo Leo non era intenzionato, non lo so, a ricoprire il ruolo per tutta la durata, magari non lo so, si è scelto di farlo apparire come personaggio secondario ma non si capisce per quale motivo, già è diverso per Alessandro Gasman che ha deciso di non tornare nel ruolo di Sebastiano e mi è dispiaciuto, quindi qua si inventa che sia stato arrestato dopo i problemi del secondo, il furto del Van Gogh, ricorderete senz'altro, no? Se l'avete visto. Non andate a vedere il terzo se non avete visto i primi due. Però lì è Alessandro Gasman che con un certo tipo di cinema, diciamo, che vuole disintossicarsi da questo tipo di cinema, dopo anche le sue prove da regista, il silenzio grande e così via, le sue prove teatrali, ha detto che per un attimo vuole allontanarsi dalla commedia e va bene, mi è dispiaciuto, però una libera scelta. Al suo posto abbiamo un Giampaolo Morelli, un professore licenziato perché aggredisce un alunno, che sarà il nuovo protagonista, colui che prende il posto di Sebastiano all'interno di questo film. E che dire, la nostra banda, dove torna ovviamente Moreno, Marco Giallini, Giuseppe Gianmarco Tognazzi, si ritroverà nell'Italia della Seconda Guerra Mondiale perché si vuole rubare la Gioconda, però allo stesso tempo in un periodo in cui i nazisti sono dietro l'angolo, quindi nazisti, fascisti, francesi e chi più ne ha più ne metta, ogni momento causerà delle situazioni disparate per i nostri protagonisti che dovranno fingersi talvolta partigiani, talvolta tedeschi, talvolta antifascisti per salvarsi la vita. È interessante vedere come ci siano ormai questi orologi che ti mostrino dove i portali spazio-temporali potrebbero aprirsi e quindi se perdi le coordinate e fai passare il tempo, se si chiude il portale devi aspettare tantissimo. In Italia si è giocato con i viaggi nel tempo grazie al cinema dei Vanzina, il cielo in una stanza, Gabriele Mainetti protagonista, a spasso nel tempo dove si nuovamente porta in scena i viaggi nel tempo però in maniera più, come potrei definire, i viaggi nel tempo li sono un pretesto per far scatenare le risa con la comicità di Boldi e De Sica che a tutti può non piacere, quindi più di pancia, più becere e così via, lo sapete io invece apprezzo quei due film, li adoro, ci sono cresciuto, però i Vanzina hanno trattato la materia in modi diversi, torno indietro e cambio vita, quindi in Italia loro lo hanno fatto ed è interessante questa cosa anche se spesso ci ricordiamo solo dei due a spasso nel tempo ed invece no. Quindi mi piaceva che Massimiliano Bruno, rifacendosi quindi a questo cinema italiano, che ora ho citato Vanzina, ma prima di tutto non ci resta che piangere, Benigni, Troisi, no? Ecco, c'era una volta il crimine, riprende molto da non ci resta che piangere, quanto era significativa la spiaggia e non ci resta che piangere sul finale, quanto lo sarà anche qui, però ecco, se il film poteva essere interessante, intanto l'ho trovato più spento rispetto ai precedenti due, il secondo diciamo che osava giocando su due piani temporali diversi, quindi tu stavi dietro a ciò che accadesse negli anni Ottanta ma allo stesso tempo anche nel presente ed era interessante vedere come le azioni del passato modificassero il presente che tu stessi guardando, quindi il ritorno al crimine era forse il più difficile anche a livello di scrittura. Il terzo poteva essere il più tragico, il terzo Massimiliano Bruno poteva veramente farlo diventare il suo miglior film della propria filmografia perché secondo me se racconti la seconda guerra mondiale puoi davvero abbracciare gli stilemi, le regole della commedia all'italiana, ricordiamo che la commedia all'italiana raccontasse in termini ironici vicende drammatiche e quando si guarda la grande guerra, quando si guarda tutti a casa, ci possiamo divertire amaramente in certi momenti, pensiamo ai grandi attori che interpretano questi film, però poi la tragedia arrivava. Ma pensiamo solamente anche alla vita bella di Benigni, qua io ho visto un Massimiliano Bruno che ogni volta, che poteva osare anche magari regalandoci un finale sia a lieto fine ma con un po' d'amarezza e si tira indietro e si tira indietro e questa cosa mi è dispiaciuta perché effettivamente anche con Freaks Out dissi la stessa cosa, tu puoi fare un qualcosa di forte ma preferisci restare in una zona di comfort dicendo dai il pubblico è affezionato a questi personaggi, non gli deve accadere niente ed è secondo me uno sbaglio grossissimo. Per questo noi in Italia io continuo a dire che la commedia all'italiana a parte rari casi non la sappiamo più fare perché preferiamo sempre ad agiarsi sugli allori e quindi anche qua hai i tedeschi, hai dei momenti in cui vuoi mostrare la cattiveria dei tedeschi, si preferisce però buttarla un po' in cacciara con delle scene d'azione molto spente, molto poco coreograficamente riuscite, in dei momenti si spara, non si capisce da dove parte il proiettile, da dove arrivi. Sul finale sulla spiaggia si migliora un po' perché almeno si vede un po' di sangue schizzare, un po' di buchi che colpiscono la pelle umana e che si formano dopo il colpo però nel complesso mi stava anche bene il finale per cui ha optato Massimiliano Bruno però però non puoi totalmente evitare la tragedia o perlomeno Bruno mi potrebbe rispondere ma quante persone muoiono in questo film? Sì però tutti personaggi, nemmeno secondari, terziari, personaggi che vedi per un secondo e di cui non ti interessa niente, il coraggio di farmi morire uno dei protagonisti non c'è, eppure se ti guardi la grande guerra, se ci guardiamo tutti a casa e sinceramente proprio perché stimo Bruno, perché è un regista italiano che io ho sempre seguito, ho sempre visto i suoi film al cinema, li ho sempre collezionati, so cosa possa fare e sinceramente da questo film che comunque nel complesso è di intrattenimento, che comunque ti rivedi, io resto deluso perché so che poteva dare di più, ci sono dei momenti che hanno dei guizzi, penso ad una scena in cui bisogna fare un servizio fotografico al Duce, per un lato in quel caso anche coraggioso, bisogna fare un servizio fotografico al Duce, in altri momenti una partita a carte con Pertini, a Scopone, cioè i rimandi alla politica, alla realtà, sono interessanti, ci sono dei guizzi da tenere in considerazione, solo che quando siamo arrivati al finale io ho detto dai ora c'è quella scena che se Bruno avesse girato avrei detto cavolo bravo, eh mai, si preferisce forse far finire una trilogia perché da quel che ho capito questo doveva essere il capitolo finale della trilogia, però non lo so, comunque si preferisce far finire una trilogia o comunque concludere un film senza il coraggio di far uscire di scena nessuno e io penso che se Gasman avesse letto in sceneggiatura che magari il suo personaggio fosse morto lottando per la patria, io penso che il film l'avrebbe fatto, ne sono convinto, quindi mi è sembrato un po' un film, un film che non osi, che non rischi, che non porti avanti quel coraggio che avrei desiderato, sperato, più spento, anche più ripetitivo, nel secondo che a me è piaciuto veramente molto c'era l'idea di giocare su due piani paralleli, no? Su due realtà diverse ed era molto più complicato anche a livello di scrittura. Il terzo capitolo invece poteva essere tragico, tragicomico, si poteva andare lo stesso incontro a quel finale ma con la perdita, perché durante una guerra le perdite ci sono ed è troppo facile far morire gli altri, i protagonisti in 4 contro 30 sempre salvi, eh no? Sinceramente no, specialmente poi quando vuoi far capire quanto siano cattivi tedeschi e in questo film per la maggior parte delle volte li sottovaluti, li fai passare un po' da idioti, quando invece a cose normali solo per un versaccio o un ma baia, cioè come succede in questo film, non certo avrebbero sparato in aria per avvertirti di farla finita ma ti avrebbero sparato qua in testa. Io non dico che il film sarebbe dovuto essere così crudele e senz'altro esplicito, però ce l'ha insegnato Benigni quanto anche una scena non mostrata di una morte possa fare il suo effetto. Immaginatevi se nella vita bella di Benigni il protagonista si fosse salvato. Il film potreste dire, caspita, una grande ricostruzione, mi è piaciuto, mi ha intrattenuto, però avrebbe avuto lo stesso effetto e qua si sceglie di farci capire che potrebbe esserci sempre il passo avanti ad invece fermi tutti, il pubblico non è più abituato a questo. Bruno poteva essere quello che portasse avanti la tradizione della commedia all'italiana e invece resta indietro e per questo a me il film ha deluso, poi certo quando rivedrò la trilogia me lo rivedo volentieri, però nel complesso è il minore dei tre secondo me, seppur abbia delle trovate divertenti, seppur poi film veramente brutti, orridi siano altri, ci mancherebbe, però da persona che stima Bruno io lo dico, poi parere opinabile posso essere smentito, io cioè da attore ci lavorerei subito con Bruno, però faccio anche il mestiere dello youtuber che parla di film e quindi io con la massima umiltà dico quello che secondo me poteva dare il film che non è andato, spero di non risultare offensivo o altro però è la verità e anche i personaggi secondo me Sabrina e Renatino potevano essere sviluppati meglio, a questo punto sono stati talmente secondari che potevano anche non apparire più. Quindi questo è il mio parere su c'era una volta il crimine che trovate nelle sale, sono curioso di sapere la vostra, se l'avete visto fatemi sapere con un commento qua sotto, vi ricordo che nelle info trovereste tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social, per abbonarvi al canale e che se vi abbonaste ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana. Io vi abbraccio, magari proprio cito due tre scene facendo spoiler così almeno capireste meglio se aveste visto il film, quindi sappiate che nel caso ora rivelerei qualcosa, quindi a vostro rischio e pericolo continuate ad ascoltarmi. Dunque io anche alla fine ci sono i nostri protagonisti, stanno per essere colpiti a morte dai tedeschi e appare Massimiliano Bruno, appare lì con Lorella Giulia Bevilacqua che spara ai tedeschi e manco uno che resti ferito dai protagonisti, almeno uno ferito, io me l'aspettavo, il sacrificio di uno. Cioè come si fa a fare la commedia all'italiana omettendo uno dei punti fondamentali, cioè la morte? Ma se io guardo La Grande Guerra, La Grande Guerra, che è un film che sembra girato dopo domani e poi vedo c'era una volta il crimine, noto un potenziale sprecato, non li vuoi far morire ma mostrami almeno uno che resta ferito, che resta offeso, almeno mostrami quanto la guerra sia davvero cattiva. Perché se mi fai morire quelli della banda della Magliana che spuntano, che già tra l'altro sono delinquenti, se mi fai morire i nazisti e basta e quindi mi vuoi fare un finale dove si butta sull'esagerato e quindi la banda che uccide tutti, era interessantissimo, veramente, perché è geniale pensare la banda della Magliana contro i tedeschi, cioè solo nel cinema può accadere una cosa del genere. Ma non lo potevi fare dopo che un personaggio me l'hai sacrificato? Ma se fosse morto un Moreno? Se fosse morto un Giuseppe? Eh no. Sì, cos'è? Fai restare Giuseppe nel passato perché si è innamorato di Adele, questa new entry interpretata da Carolina Crescentini, cioè la nonna di Moreno. Però anche tutte le trovate interessanti del film, Moreno che si rifugia con i nostri protagonisti a casa della nonna giovane e quindi conosce sua madre che è una bambina. La scena dell'abbraccio tra Moreno e la bambina è molto intensa. Lui che mette in pericolo la madre che verrà rapita e quindi la deve cercare, intanto c'è la Gioconda che i tedeschi vogliono e quindi poi c'è il servizio fotografico a Mussolini. Ci sono dei momenti veramente anche divertenti, però non bastano perché che sappia fare le cose divertenti, Bruno, lo so già, questo doveva essere secondo me il fin della svolta, che dovesse chiudere una trilogia ma non solo, che potesse essere tragicomico. E invece no, si sceglie di salvare tutti perché l'importante è giocare con la comicità, ecco, e non mi basta vedere un piano dall'alto con tutti i morti per capire la crudeltà della guerra. La guerra uccide anche i protagonisti, cioè non solo i secondari, anche i protagonisti. E il cinema questo lo deve sapere, la guerra non guarda in faccia nessuno, sono tre i protagonisti, uno che ci voleva farmene fuori uno, uno, eppure no, nulla. Anche il finale l'ho trovato tirato via, cioè se veramente volesse essere l'ultimo film questi tornano indietro con il portale, spazio temporale. Giuseppe è rimasto lì e il film finisce. Non ci resta che il crimine e franca gli energy e si ripropone la canzone. Poi c'è senti come sento il sentimento, sentimento, sento, sento, nei titoli di coda che è un marchio distintivo del cinema di Bruno. Ma forse se l'avessero cantato durante il film avrebbe avuto l'infortuna. Mi dispiace perché anche la bambina che canta voglio vivere così. Ci sono dei momenti che sarebbero potuti essere veramente meglio sviluppati anche per le conseguenze che poi nel film non vengono mostrate. E quindi io sono dispiaciuto. È sembrata una chiusura proprio frettolosa. Loro vanno via col portale e finisce il film. Allora forse c'è un altro capitolo che dovremmo aspettarci, ma questa volta dopo che sei andato, nella seconda guerra mondiale hai capito quanto viaggiare nel tempo possa essere pericoloso, è poco credibile che ci sia un altro film. Perché dopo le nefandezze della guerra è difficile pensare che tu possa fare un altro film dove magari si va nel futuro. Per quanto sarebbe stato interessante a livello di franchise. Poi magari lo faranno. Però allora il film sulla guerra l'avrei voluto dopo. Perché quando arrivi a toccare la guerra non c'è un tornare indietro. Cioè se te tocchi la guerra e vuoi fare una commedia ambientata nel periodo della guerra lì ci deve essere una fine. Qualcuno deve lasciarci le penne. La tragicità si deve sentire. Per questo io penso che sia difficile tornare alla leggerezza del primo in un futuro capitolo. Per questo non ci sarà, secondo me. Poi magari sbaglio. Però se poi ci sarà, boh, lo vedremo. Avrebbe senso. Però se allora questo è l'ultimo, un finale così frettoloso. Veramente quel finale lì chiude bene il cerchio dei nostri protagonisti? Beh, però non lo so. Non lo so. Secondo me Bruno potrà fare di meglio e... Lui, Bruno ha sempre rincorso la commedia che si faceva un tempo e qualche volta certi guizzi si trovano nel suo cinema. Pensiamo agli ultimi saranno ultimi. Però poi si tira indietro e mi dispiace. Come tantissimi registi italiani, come tantissimi. Io veramente ho risentito battere forte in me quelle sensazioni della pura commedia all'italiano vedendo ad esempio l'opera prima di Pietro Castellitto, i predatori. Comunque ragazzi, questo è il mio parere. Vi invito a farmi sapere la vostra. Sinceramente il film l'ho visto volentieri ma sono rimasto deluso per questi motivi. Perché so chi sia Bruno e so cosa può dare. Quindi lo dico perché sono un suo estimatore e non perché mi diverta a bocciare le cose. Fatemi sapere la vostra nella sezione commenti. Io vi ricordo che trovereste la recensione anche dei primi due capitoli se voleste degli anni scorsi. Un caro saluto, io vi abbraccio e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!